La mia rabbia e la vergogna nel vedere un ragazzino che era già messo alla gogna per aver voluto dire io non so dimenticare un passato dignitoso per il quale pro ornore e veniva trascinato per i corridoi di scuola col cartella appeso col con suscritta una parola che per noi dobbiamo dire una corruzione alle ma del tutto quanto è mai il simbolo del mar quando siamo ancora qui per ricordare che siamo ancora qui per i corridoi di scuola per i corridoi di scuola per i corridoi di scuola e del fior che è sbocciato il suo sangue era acrumato è un passato giornalista preparava già la storia la rana di po' già vista per sporcarne la memoria tanto da arrivare in diretta casa del suo amato per la scuola e la luce prontando le bordelle per i carri di caldo sui tuoi barri compagni ritirino senza giustizia tra fascismo e dei suoi ingaggi ma noi siamo ancora qui per ricordare e noi siamo ancora qui per i corridoi di vendicare e non chiedo la vendetta ma non mi aspetto trasparenza questa è la vendetta non conosce la giustizia voglio solo ricordare senza scomodare i morti ma che almeno i nostri figli non conoscano quei torti e noi siamo ancora qui per ricordare e noi siamo ancora qui e noi siamo ancora qui ai vardotti cheessioni Grazie a tutti